How about the whoopper? Tartano, guardi quest'anno. Andiamo qui. Eccoci qua all'apertura del nuovo Burger King di Palermo. Qui con la nostra faccia... Non me conosci. Avanziamo, siamo i primi ragazzi. Abbiamo ricevuto un invito grazie al nostro operato aziendale. Ed eccoci qua. In primo piano qui la faccia del nostro carissimo Alessandro Bencivini che è alzato da quasi 15 ore. E qui la mia faccia è sgato. E cos'hai da dire, compone? Siamo lieti di questo evento perché sappiamo che ci sono tanti altri giorni diciamo di mangiare sano, come a salute nostro, di ufficio. Ci sono cose così naturali che a noi piacciono tanto. Vieni, lasciami il turno, aspetta. Ti faccio fare un giro. Qui il nostro caro Giacomino. Il nostro caro Giacomino che fa il fotografo per la rivista Cal... Saluto tutti, saluto gli amici di Cordova, che trovano la televisione, portata da Pordova, del nostro canale in Cordova. Grazie, grazie. E siamo qui, è il 5 maggio, con le ore 19.50. E ci siamo quasi per l'apertura. Siamo super incitati per questa nuova apertura del Booker King, del Home and Whopper. come rappresenta l'insegna Made in Metallurgica 2001. Come potete osservare il nostro operato, a Lucom, Lamiera Aggregata, RAL 3005, eccetera, eccetera. E quindi io vi invito a venire, tutti quelli che fossero all'ascolto, a venire, che stasera ci saranno i menù a un euro. Quindi non lasciatevi scappare questa occasione. Grazie per il suo intervento, signor Costa. Costa, c'è il catering che è quasi in conclusione. E là sotto, come vedete, c'è la bolgia, c'è la bolgia di persone che potranno gustarsi, potranno anzi gustare il loro, o pregustare, in base ai palati più fini, i menù ad un euro. Ma siccome io sono uno dei più fortunati, mi vedo a fare la fila. Arrivederci, signor Costa. È tutto, vi saluto. E un buon V per a tutti. Arrivederci.